Spazio infinito Spazio infinito I would give you everything It's in my power to do Shiny, pointy, funny things A thousand pairs of shoes Anything for you Grazie, grazie Benvenuti signore e signori Quando ho intervistato Neil Clark per Book Program Sapevo che era straordinario Dopo la pubblicazione del suo brillante romanzo I critici lo hanno inserito nella schiera degli immortali d'Inghilterra Signore e signori, Neil Clark Grazie Neil, volevo cominciare chiedendoti Grazie